ciao fiorellini ciao fiorelline oggi facciamo un video dopo un mese che ho iniziato la dieta scrivendomi questa quadernone e vi farò vedere vi dirò ogni mese quanto mi sono dimagrita dopo vi faccio vedere pure il mio corpo dopo che ho detto quanto buttato via e lo sto facendo col telefono perché con la fotocamera fa rispecchia troppo la faccia mi diventa troppo bianca col telefono invece c'ho la luce rotonda che c'ha la cosa qua che posso vabbè il filo e ci sa pure la luce gialla bianca robe così che c'è stato c'è qua io ho visto già su amato che i fanalini e però devo aspettare che prendi la prezzo di guerrino per comprarla nella ottobre dopo rifarò con la fotocamera giusto perché il telefono quando io vi faccio vedere le cose si vedono al contrario giusto quello e va bene adesso inizia la sigla e ci vediamo dopo ecco sono ritornata il ventilatore è spento per se io c'ho caldo e oggi è sabato 17 settembre e io avevo iniziato la dieta se pensavo 84 mili iniziato la dieta il 17 agosto non c'è la degli annunciato facendo la dieta 17 agosto non so se riuscite a vederlo che elicotrario e 17 agosto io pesavo 84 kg e 800 grammi a 75 perché hanno cambiato dieta ne ho messo due chieri e pensavo così e ogni settimana dopo una settimana pensavo 82 kg e 800 dopo un'altra settimana pensavo io ho messo due chieri e pensavo 83 8 mi sono sbagliata poi va beh comunque il 14 meno pesa 81 kg e oggi guardate quanto peso non lo so se riuscite a vederlo aspetta il giro la fotocamera vediamo se riesco a far vedere vedete quanto peso vediamo se riesco a far vedere di 79 kg meno 5 kg ecco ho girato perché qua vedete male 79 kg meno 5 kg vi ricordate che andavo dalla dottoressa e mi dimagrivo un chilo al mese 2 kg al mese giusto il primo mese e e adesso non so quanto sono arrivato 104 kg all'inizio 104 vita dottoressa e non so quanto vabbè comunque adesso sono arrivato 5 kg con questa dieta e il prossimo peso io devo fare il 21 però siccome che ho questo quaderno ho iniziato il 17 di 17 del mese che pompa me lo scorda penso con il 16 oggi mio marito ha detto guarda oggi devi pesare perché oggi è 17 un mese perché io mi ero pesata il 14 che era una settimana ogni settimana mi peso però siccome che il 14 mi sono pesata 17 17 era un mese mi dovevo ripesa e perciò mi sono pesata mi sono pesata non mi devo ripesare il 21 di questo mese e poi mi devo ripesare il 28 un altro due volte questo mese però dopo 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 devo mettere queste dedice di ottobre e che il 17 mi peserò e farò il video comunque il primo mese ho buttato via 5 kg 5 kg sono arrivata 79 kg ancora devo buttare via perché io pure se non arrivo a 57 50 57 che ho scritto però se non arrivo a 65 però se non arrivo a 65 per 70 kg non 39 kg io sarei contenta ugualmente non è che voglio fare la fotomodella proprio e vabbè io dovrei arrivare a 57 kg perché la dottoressa aveva ammesso che io devo arrivare a 57 kg il mio peso forma e vediamo quanto arriverò però ci vuole tempo perché ci vuole tempo per dire se non è una cosa così e fai veloce comunque ho perso 5 kg non succederà sempre perdere 5 kg al mese perché di solito le banquette 4 kg al mese io mi ricordo quanto sono arrivata a 65 kg dopo 65 kg buttavo via un chilo 2 kg al mese però perché ho buttato via tanti kg ho buttato via tantissimi kg ero di pesato 140 kg e sono arrivata a 62 kg ma con anni mi c'è voluto forza camminare a fare io ho la dottoressa non so più che quante calorie erano perché all'inizio erano 1.400 calorie però dopo mi arrivava quello ma arrivata la pasta ma arrivato il pane non mangiava né pasta né pane e perciò non so più quanti che quante calorie erano invece queste questa è una dire calorie la mattina maggio 100 calorie perché mi ho comprato avevo fatto vedere mi sa su un video mi coso per fare il latte fare lo schiuma e fare il cappuccino come al barre perché a me mi piace quello lì e allora mi ci metto una tazzina di caffè e un dietro che poi il caffè non capisco perché non me lo faceva beve invece a beve l'orzo invece il caffè che l'orzo c'è più calorie del caffè il caffè c'ha una caloria lo zucchero dietro c'ha 0 calorie e invece l'orzo c'ha due o tre calorie mi ricordo perciò c'ha un po' più di calorie non so perché non me lo faceva beve e io ho una caffettina piccola rosa che è un caffè però mi vengono tre caffè perciò io mi faccio quella caffettiera la metto dentro il frigorifero e tre giorni non ha fatto il via e 100 calorie il latte perché c'è allora latte poi dietro il caffè e 100 calorie lì e vabbè comunque mi sono buttato via 5 chi sono soddisfatta sono contenta di me stessa che ho fatto questa cosa e adesso blocco un attimo vi faccio vedere come sto adesso penso 79 kg però ancora ciò i chili da buttare non so quante chi sono da buttare momento il blocco faccio conto e vi dico ancora quanti chi dovrei buttare se arriva 57 kg aspettate ecco sto qua e ecco sono vabbè questa maglietta è grande dell'anno scorso però io sono così ecco non la stringo qua e vi faccio vedere 79 kg e ancora c'ho un po' di pan sotto e solo così insomma sono così ecco questo è grande perché dell'anno scorso e c'ho così la panza c'ho la panza ecco c'ho così chi è tavoli aspetta e sto così ok ok è entrato guerrino ma la pasta forno non è per noi lo so coce per mia figlia e per la mia nipotina che mi ha detto se io la cocevo mia figlia ok io ho fatto il conto per arrivare a 57 kg mi mancherebbero 22 kg pure se non riesco pure butto via invece 22 kg 15 kg io sarei contenta ugualmente però se arriva a 57 sarebbe il massimo diventerai secca come quanto mi sono sposata vabbè che mi sono sposata pesava del meno pesata 57 50 kg 55 kg però arrivo a 57 kg va bene magari mi farebbe bene pure per la schiena il mio problema di schiena tante cose così è ok comunque questo mese ho avuto via 5 kg e spero che al prossimo mese 17 ottobre altri 5 kg se riuscirei a buttare via 5 kg dovrei pesare 78 78 77 76 75 74 kg dovrei pesare se riesco a buttare via 5 kg ma neppure se butto via 4 e sono contento 4 però se butto via 3 kg mi sono comunque buttare via 5 kg e col quaterno fa più effetto perché controllo più le mie calorie questa è una dieta di calorie e basta e comunque non soffro la fame non mi giro la testa non mi sento debole perché c'è pure il cremino per mangiarlo stasera per esempio è sabato e mangio la pizza io una volta la settimana mi mangio la pizza a margherita posso mangiare a margherita posso mangiare ai funghi la posso mangiare e basta margherita o funghi potrei mangiarla queste due tiposi ok io adesso vi lascio spero che vi è piaciuto e siete contenti per me che mi sono di margherita 5 kg quindi incrociamo le dita e speriamo che la prossimo mese perché lo faccio una volta al mese come facevo con la dottoressa una volta al mese vi faccio vedere perché scrivo io scrivo sempre per vedere se mi magrisco sia una volta a settimana sia una volta al mese io scrivo ve lo faccio vedere il prossimo mese sicuramente vedrete meglio perché la fotocamera gli avrò comprato un fanalino speriamo perché è molto meglio sia per la spesa sia per queste cose qua perché si vede più a dritto con telefonino no come c'è la luce c'è la luce dietro è difficile mettere le cose dietro per farle vedere e perciò è molto complicato va bene adesso vi lascio il prossimo ottobre sarò con maglioni non lo so perché purtroppo farà freddo ottobre e di ottobre un mese un mese preciso 30 giorni non so va bene comunque il primo mese con questo quaderno sono di mia vita 5 kg perché scrivendo ti controlli meglio le cose io ho fatto la prima volta che ho fatto questa dieta facevo così finché sono arrivato 65 kg questa volta sapevo iniziavo a fare questa perché tanto ce l'avevo già invece sono pure andava dalla dottoressa pensavo che mi dimagrivo di più di da sola invece di meno che questa dieta qua questa dieta qua io mi sento bene perché mangio pure il cremino mangio una volta a settimana la pizza mangio due volte a settimana la pasta invece con lei neanche la pasta neanche il pane non mangio un biglietto oggi per esempio ho mangiato una rosetta e 50 grammi di prosciutto crudo magro e mi sono fatta i fagiolini quelli lì acciaccati e larghi un piatto di fagiolini con due cucchiaini di olio e da lei c'era 3 cucchiaini di olio da lei c'erano due cucchiaini e mi sta andando bene la pressione mi si è regolarizzata la pressione non lo so cosa mi dava da mangiare non mandava sulla pressione non lo so e io adesso vi lascio e ciao al prossimo video ma per questo video fra un mese ci vediamo il 17 ottobre ciao nella pace